Priorità alle uscite per assottigliare l'organico, ma il Pescara nella campagna di gennaio che si è aperta ufficialmente stamani va a caccia di alcuni rinforzi. Un puntello intanto per la difesa, visti gli infortuni di Fornasier e Bovo e che Stendardo e Campagnaro, se mai restassero inorganico, non darebbero adeguate garanzie dal punto di vista fisico. Il sogno Alessandro Bastoni rimarrà tale, poiché l'Inter, che ne aveva acquistato il cartellino in estate dall'Atalanta, dove era rimasto in prestito, ora ne chiede l'arrivo anticipato, proprio alla corte di Spalletti. E allora il Delfino vira su un altro difensore che ha un recente passato all'Inter, il 19enne Franco Guadalupense, Andrew Gravillon, che in estate è stato acquistato a titolo definitivo dal Benevento, con cui ha firmato un contratto fino a giugno 2021. Fino ad appena due presenze coi sanniti, che potrebbero girarlo in prestito in rival adriatico. Altro nome caldo sul taccuino dei DS Pavone e Leone è Arturo Calabresi, classe 96, ora allo Spezia, in prestito dalla Roma. Anche per lui solo due presenze in campionato e quindi la necessità di cambiare aria e avere nuove opportunità. Un nome interessante è quello di Gianluca Mancini, anche lui del 96, di proprietà dell'Atalanta, con cui ha debuttato in A, e che ha alle spalle due buone stagioni in Serie B con il Perugia. Il buon rapporto col club aerobico potrebbe incidere in questi giorni, in cui il Pescara restituirà Latte Latte e cercherà conferme circa la permanenza di Valzanino. Sul fronte portiere non è ancora certo che il Pescara opti per un sostituto di Pigliacelli, nel caso il profilo è quello dell'ex salernitana e gubbio Entoni Giannarilli, ora la Viterbese. Altrimenti sarà ancora Antonino il dodicesimo. A centrocampo l'infortunio di Palazzi e la probabile partenza di Coulibaly rendono necessario un innesto. Sondaggio per l'ex lancianese Fabrizio Paghera, che è in uscita dall'Avellino, ma che è conteso da Brescia salernitana. Per l'attacco il Pescara è alla ricerca di un esterno. Il principale obiettivo è Filippo Falco. L'attaccante è ora in prestito al Perugia, ma di proprietà del Bologna. Spesso ha anche ricoperto il ruolo di trequartista. Il Pescara deve battere la concorrenza dell'Empoli, ma anche del Benevento, che potrebbe fare un pensierino al giocatore che lo scorso anno ha militato proprio con i Sanniti, essendo un protagonista della promozione in Serie A. Altro obiettivo è l'uruguayano Cesar Falletti. L'ex ternana, ora di proprietà del Bologna, ha trovato poco spazio con Donadoni e potrebbe essere girato in prestito. Il Pescara continua poi a monitorare Luca Vido, ma l'attaccante dell'Atalanta ha tanto mercato e cerca una squadra che punti forte su di lui. Ma nel suo ruolo il Pescara ha già un bomber da doppia cifra, Pettinari, e potrebbe non gradire la destinazione.